buongiorno ragazzi ecco qua ritrovati in questo nuovo video della serie gratta che ti passa e andiamo a grattare i nostri consueti due gratta e vinci dei numeri fortunati con la speranza con la speranza di vincere di vincere per andarci a fare un bel viaggetto destinazione giappone va bene bando alle chiacchiere andiamo a grattare il primo numero ecco qua il numero è 35 35 35 non c'è non c'è cosa normale cosa normale proseguiamo proseguiamo e andiamo e ci troviamo il 26 il 26 lo troviamo qui il 26 lo troviamo qui speriamo bene andiamo avanti andiamo avanti c'è il 37 il 37 lo troviamo in quest'altra colonna molto bene andiamo 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 avanti con il 69 69 invece questo qua gran bel numero gran bel numero andiamo avanti il 58 non c'è 58 non c'è noi abbiamo il 59 e e va bene andiamo avanti il 33 l'anni di cristo ecco qua è l'ultimo numero testa colonna ma tutti il 33 c'è sempre il 41 11 niente proseguiamo sotto il 56 eccolo qua eccolo qua il 56 c'è proseguiamo il 30 il 30 non c'è il 50 c'è in questa colonna bene molto molto bene il 27 c'è in questa colonna molto molto bene ragazzi qua qua se esce uno di questi numeri potrebbe essere vincente ma non c'è credo il 32 sta qua ma è possibile che qua non c'è io non c'è io non c'è credo non c'è posso non c'è devi credere Stefano mio c'è devi credere il 12 sta qua oh fermi tutti ragazzi perché qua andiamo avanti è il 73 il 73 ecco qua abbiamo pizzicato abbiamo pizzicato e anche questa volta abbiamo pizzicato eccolo qua eccolo qua eccole un 74 ecco qua eccolo qua 26 e 73 forse la volta buona che lasciamo perde tutto e andiamo in S06ro alamo c'è oggi il 75 oggi s alguma oggi siamo decisamente abbiamo anche il 59 ecco qua questi numeri sono vincenti adesso incrociamo le dita incrociamo le dita piano piano ce la spilliamo è quasi a 10 euro a roma ci arriviamo qua vediamo qua spilliamo 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 e so 15 con 25 euro arriviamo un pochettino più là e questo biglietto questo biglietto non si sa come ma è vincente biglietto vincente bene bene molto bene andiamo proseguiamo con l'altro biglietto e speriamo che è vincente anche questo ma se vincite una botta l'altro andiamo a cancellare il numero 40 e giustamente non ce l'abbiamo proseguiamo sotto con il numero 71 71 c'è proseguiamo con quest'altro col numero 79 79 non c'è andiamo con quello sotto col 56 il 56 non c'è il 51 eccolo qua il 51 c'è andiamo sotto con l'80 e l'80 c'è eccolo qua l'80 c'è il 78 c'è eccolo qua e per norma sono usciti tre di fila fa usci il quarto il 62 e mi fai contento e facevo natale natale non sa che non se fai il 46 non c'è è piano piano perché se non mi piegare fatta no niente 68 68 non c'è è 62 forza il 29 29 non c'è il 25 25 25 ha capito non lo quattro numeri è il 67 sta qua mannaggia tiriamo un po gli ultimi quattro numeri questo biglietto sono usciti il 22 eccolo qua vediamo adesso vediamo secondo me secondo me c'è un 65 qui c'è 65 non può essere 69 invece c'è il 69 eccolo qua gran bel numero ma mi serviva il 62 il 28 non c'è e il 30 eccolo qua e niente non è vincente andiamo a vedere quanto vincevo 500 e buttale via mamma mia dio divino buttale via di qua vediamo quanto c'era 200 buttale via pure questo allora questo biglietto non è vincente abbiamo vinto solo con l'altro biglietto la quota di 25 euro quindi direi che anche questa settimana già detto bene detto questo ci rivediamo nel prossimamente che faremo una nuova grattata prima della fine dell'anno io vi rinnovo gli auguri di buone feste e un felicissimo fine anno sperando che il 2019 sia molto più prolifero ragazzi ci vediamo alla prossima ciao